Salve a tutti, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Esteticamente presso il Centro Estetico Eutalia, via Rosario Livatino e Enna. Io sono Giovanna, oggi parleremo della maschera al ferro. Il trattamento della maschera al ferro è un trattamento brevettato da Dermophysiologic nel 1975. È formato da una crema, maschera al ferro, da un apposito magnete e da un tonico specifico. Questi tre elementi messi insieme vanno ad effettuare una pulizia dell'epidermide in modo superficiale e profonda, senza l'utilizzo del vaporizzatore, ed effettuano una tonificazione immediata grazie al magnetismo. È adatta ad ogni tipo di pelle, grazie alla sua formulazione green, composta da microparticelle organiche di ferro, che non vanno ad intaccare il film idrolipidico. È particolarmente indicata per pelli arrossate, sensibili, che soffrono di cuperose, eritrosi, seborroiche e acneiche. Molti ci chiedono come può una semplice maschera andare a sostituire l'azione sia del vaporizzatore sia della spremitura. Grazie all'attrazione magnetica che avviene tra il pelo e le microparticelle ferrose, avviene la fuoriuscita di sebo e l'esportazione dei comedoni. Un'altra azione di questa speciale maschera è l'effetto tonificante anti-age, che, grazie alla stimolazione magnetica che si sviluppa sia durante l'applicazione e la posa della maschera, sia durante l'esportazione con l'apposito magnete, stimola il metabolismo cellulare e la produzione di nuovo collagene. Il magnete, durante l'esportazione, trascina con sé cellule morte, eccesso di sebo, smog e comedoni. L'esportazione della parte bianca, invece, avviene attraverso uno speciale tonico, che esporta le secrezioni cutanee inglobate nella parte cremosa della maschera ed effettua un'azione smagnetizzante sulla cute, riportandola alle sue normali funzioni. Effettua inoltre un'azione vasoprotettiva e leggermente rinfrescante. Dopo l'applicazione di questo speciale tonico, la pelle si scherisce e acquisisce compattezza, luminosità e morbidezza. Dopo aver eseguito il trattamento della maschera a ferro, la pelle assumerà un aspetto compatto e luminoso. Questi sono solo i punti salienti del trattamento. Per il trattamento completo, veniteci a trovare in Viero Searo Livatino 70, presso Eutalia Enna.